Le famiglie hanno bisogno di un aiuto della Chiesa per approfondire la fede di ciascuno, perché con la fede in Gesù si prende, si guadagna le forze per superare diverse situazioni. Quando c'è la fede, quando qualcuno ha scelto di mettere Gesù nel primo posto della vita, tutto è possibile. La vita non è sempre facile dappertutto, ma in Gesù prendiamo forze per superare molte difficoltà. Con la fede il marito dà la dignità alla donna, quindi questo aiuta al sviluppo della famiglia, perché cercano di costruire insieme, di avere fiducia nella moglie, anche la moglie così ha fiducia in lei, così si può promuovere la famiglia in quello spirito dell'amore reciproco, anche dell'aiuto reciproco.